A 70 anni dal voto alle donne, il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, con Tg, Rai Piemonte e Agis Scuola, promuove quattro incontri per le scuole, sul tema Il cammino delle donne dalla liberazione a oggi. L'iniziativa ripercorre le vicende e le protagoniste di quell'epoca, attraverso un dialogo tra le partigiane piemontesi, donne di primo piano nel panorama sociale, professionale, culturale e artistico del nostro paese e i giovani. Nel primo appuntamento al Cinema Reposi di Torino il 29 aprile alle 10.30, la giornalista Rai Simonetta Rò dialoga con Carla Dappiano, partigiana, e J.P. Cucciari, attrice.